Sì, estrema destra? Soltanto come posizione in sala, eh? Eh certo. Sono qua, salve. Ah, veramente estrema destra? No, soltanto come posizione in sala. No, no, sì, perché è in alto. Ah, ecco. Non direi che abbiamo iniziato male il campionato, eh? No, io ho detto che non era iniziato benissimo. Allora, andiamo, andiamo, è uno scherzo. Sì, anche il mio ovviamente. Allora, intanto se il risultato della partita le sembra giusto, se c'è un piccolo rimpianto, visto che il Napoli nel secondo tempo sembrava dominare la partita, in abbio soprattutto. Grazie. Deluso del risultato perché non mi sembra giusto, mi sembra che un pareggio era più normale visto la partita. in generale, le statistiche e anche i momenti della partita. Abbiamo iniziato benissimo durante 20 minuti. Abbiamo fatto gol su un corner che avevamo lavorato due giorni fa e anche ieri. Poi abbiamo preso gol su una costruzione bassa nostra, però questo può succedere. è il nostro gioco, dobbiamo continuare a ripartire da dietro perché è una qualità nostra e diciamo che tutto il resto della partita abbiamo anche creato o siamo riusciti a uscire dal basso per andare fino all'area adversaria e avere delle occasioni. Quindi sbagliare fa parte del gioco e non è un problema. La cosa che mi è piaciuta un po' di meno è la riflessione della squadra dopo l'uno a l'uno perché siamo aperti troppo. Abbiamo voluto subito andare a pressare alto e non abbiamo preso nessun palone a parte avversaria in questo momento qua. Siamo fatte imbucare al centrocampo con Bellingham, Valverde dietro i nostri tre centrocampisti e l'abbiamo corretto all'intervallo. Per fortuna non era troppo tardi, però in questi momenti qua dove soffri un po' di più devi chiudere il centro nella tua metà campo e mandare il gioco sulle facce. Anche se Camavinga e Carvajal sono ottimi giocatori meglio che loro hanno la pala che Bellingham e Valverde è dietro la tua linea di centrocampo. E quindi abbiamo corretto questo. Ho dovuto ricaricare la squadra perché secondo me quando sei così vicino sul tabellone anche se perdi può succedere di tutto pareggiare, vincere dietro e almeno mi è piaciuto la squadra sul secondo tempo. Siamo partiti forti abbiamo palleggiato bene siamo stati aggressivi abbiamo pareggiato Maradona ci ha aiutato tanto perché hanno spinto i ragazzi e hanno anche messo pressione su avversario è peccato che abbiamo preso questo gol sfortunato su un corner che forse non c'era però diciamo che secondo me Carlo Ancelotti forse parlerà del rigore loro preso e noi parliamo di questo terzo gol quindi secondo me gli episodi non ne parliamo è solo un peccato non aver uscito non aver uscito in questa partita con un pareggio perché i ragazzi lo meritavano ho risposto a tutto e a tutti adesso sentiamo la traduzione in quanto lo fa dai io cronometro vai le parese il risultato corretto andiamo a prendere un caffè chiaramente sono decepzionato avrebbe stato meglio un empate visto il partito e le statistiche abbiamo jugato 20 minuti molto bene abbiamo fatto un gol nel corner che abbiamo lavorato dopo ha habito una construzione baja nostra e abbiamo encajato il gol abbiamo creato e abbiamo arrivato al area adversaria non possiamo equivocar perché è il gioco mi ha gustado meno la seconda parte abbiamo fatto una presione molto alta senza robare Real Madrid ha podito entrare al centro campo e nella seconda parte nos corregimos quando si soffre hai que sacar il ballone hacia le bandi per lo tanto non corregimos recargui il equipo perché tutto può passare in un partito di Champions non mi ha gustado molto la seconda parte quando però empatiamo e il Maradona nos aiutò muchísimo è una lastima che encajiamo ese gol desafortunato Carlo Ancelotti probabilmente parlerà del penalti e noi parliamo del terzo gol non c'è che parlare di episodi non abbiamo merecido qualcosa di più Sì l'esame superato Sono qua Estrema sinistra Sì I risultati spesso condizionano il giudizio stasera non è il caso non mi sembra il caso si può dire che dentro una sconfitta che è amara e anche dolorosa il Napoli trova nuove certezze e la consapevolezza persino di uscire più forte Guarda mi è piaciuto soprattutto la reazione del nostro pubblico alla fine della partita perché hanno provato che un pubblico sono tifosi che conoscono il calcio poi è sempre sempre difficile perdere per fortuna ci sono ancora quattro partite in Champions secondo me la doppia sfida contro i tedeschi sarà decisiva per superare il girone e ci dobbiamo concentrare poi sì va tenuto tutte le cose che abbiamo fatto bene e ne abbiamo fatto tante stasera e poi dobbiamo migliorare come l'ho detto questo forse se succede di nuovo un momento un po' meno bene dove dobbiamo essere in grado di lasciare passare il temporale perché dopo l'abbiamo visto il sole con la nostra squadra può tornare a qualsiasi momento visto la qualità dei giocatori e del collettivo decisivi per passare la fase dei gruppi bisogna migliorare e sapere capire il vendaval perché il sole va a salire altra vez il Napoli questa sera ha giocato alla pari con il Real Madrid prima cosa e la seconda la differenza di livello e quindi questa sconfitta si può spiegare in due giocatori in questo momento fuori dall'ordinario come Bellingham e Vinicius il Napoli ha giocatori fortissimi però forse questi due sono insomma qualcosa di difficile da affrontare Sì ho detto anche ai vostri colleghi che secondo me abbiamo giocato alla pari stasera con il Real Madrid quindi è una buona cosa può dimostrare un po' come la domanda prima che dobbiamo crederci avere fiducia nei nostri mezzi poi sappiamo che quando giochi una dei migliori club del mondo ci sono giocatori importanti non solo che iniziano la partita ma anche che continuano entrando in gioco campioni del mondo e campioni semplicemente però secondo me non è un problema di singoli stasera è più è più un fatto che come ho detto potevamo fare molto meglio dopo l'uno a uno e soffrire forse un po' meno però l'importante è di essere ripartito e di aver non solo pareggiato ma creato nella vittoria creduto creduto medio si potrei dire che Napoli ha giocato a la par di Real Madrid e questa differenza di livelli potrei explica con due individualità come Bellingham e Vinicius sì io credo che abbiamo giocato un partito a la par il risultato la mia opinion è positiva hai che tener confianza nel equipo quando giocas contra un club il club più forte del mondo te encuentras con jugadores che sono campeoni in generale il problema non è delle individualità sino di poter fare molto meglio potremmos aver fatto molto meglio dopo l'empate l'importante sempre è crear ultime due buonasera mister lei ha pescato dall'emergenza due giocatori mi riferisco alla coppia centrale Ostigard e Nathan che sulla carta pensavamo potessero essere le riserve degli infortunati che stanno fuori visto il livello non solo delle prestazioni singole ma del modo con il quale i due giocano bene insieme sarà un po' difficile adesso farli insomma non dico farli fuori però restituirli al loro ruolo iniziale che a noi sembravano quelli di panchinare rispetto a Racamani e a Juan Jesus grazie la cosa che spero è avere la scelta quindi ritrovare sia Amir che Juan e dopo ci sarà da scegliere però sono d'accordo con lei sul fatto di dire che la coppia Leo Stigard e Nathan funziona molto bene quindi sono contento delle loro performance e molto meglio così per il futuro della scuadra ha utilizzato dos jugadores de emergencia diciamo Nathan e Ostigard però visto lo ben che juegan podrà non volver a usarlos se solo considerare suplentes la speranza è poter tener una elezione poter elegir sto molto di accuardo in che sta dupla Nathan Ostigard funziona molto bene e sto molto contento della prestazione che hanno inizio eccomi qua buonasera mister sarà Zelischi il rigorista del Napoli è l'unico che ne ha assegnati due finora non penso non penso perché come l'ho già spiegato di solito è un po' la guerra nelle squadre la guerra per tirare i rigori per questo che per mettere una fine alla guerra c'è una lista che fa il mister che devono seguire ma poi se non la vogliono seguire è scelta del primo sulla lista di dare il pallone a un altro e visto che Zielo ha fatto l'ultimo gol sul rigore mi è sembrato molto interessante che lui calciava di nuovo il rigore e non poteva calciarlo meglio quindi bene così diciamo Cieliski va a tirare tutti i penalti non credo perché sempre c'è guerra di penalti per questa razone è una lista del entrenatore che deve seguir e se non il primo della lista può decidere se ceder il posto Cieliski è interessante come ha tirato e lo ha fatto molto bene grazie buon notte grazie grazie